È stato presentato oggi dal commissario straordinario dell'ASL Roma 1, Angelo Tanese, dal presidente di AMREF Mario Raffaelli e dal consigliere regionale Teresa Petrangolini, il progetto di promozione della salute di madre e bambini in aree disagiate della città di Roma. Per garantire l'appropriatezza e l'efficacia dell'assistenza materno-infantile, AMREF e ASL Roma 1 hanno siglato un protocollo che costruisce una rete di percorsi che consentono a tutte le donne di accedere in modo diretto, facilitato e programmato al percorso nascita anche nelle aree disagiate della città. Il progetto si propone di sperimentare tra l'ASL Roma 1 e AMREF Italia un modello di presa in carico e di accompagnamento del percorso delle donne in gravidanza, in questo momento partendo da un distretto, che è il distretto 3 del municipio 3, che è il più popoloso dell'azienda, sono 230.000 persone, noi stimiamo circa 1.250 donne in gravidanza l'anno, quindi il nostro obiettivo è quello di far sì che la donna in gravidanza abbia attraverso un'azione anche attiva di informazione, di comunicazione e di presa in carico un percorso il più agevole possibile. È chiaro che soprattutto a seconda delle fasce sociali ci sono a volte delle difficoltà nell'accesso ai servizi, soprattutto per esempio per le donne anche che sono di fasce più svantaggiate o anche di comunità di stranieri che magari per una serie di motivi hanno maggiori difficoltà di accesso. Quindi è un progetto che guarda anche a un obiettivo di riduzione della diseguaglianza sanitaria e anche di maggior tutela e garanzia per la salute, sia per la donna che per il bambino. Dottor Raffaele, buongiorno, come nasce questa importante collaborazione con l'ASL Roma 1 e che importanza ha questo progetto per le donne? Nasce da lunghe discussioni che ci sono state tra una realtà come la nostra che storicamente opera in Africa e una realtà che ovviamente opera in Italia. Questo incontro deriva dal fatto che ormai anche in Italia si sono create in conseguenza della crisi delle aree di marginalità e di povertà che riguardano in particolare popolazioni più a rischio come possono essere le donne nei momenti della gravidanza o in aree particolarmente emarginate. Noi abbiamo come AMREF un'esperienza particolarmente su questo punto, cioè sul come rafforzare i sistemi sanitari di base e sul come motivare le popolazioni ad utilizzare questi servizi perché molto spesso più che un problema di assenza di strutture c'è anche un problema di scarsa informazione su come poterle utilizzare al meglio. Noi quindi pensiamo che si possa creare una sinergia molto utile che tra l'altro è raccomandata da tutte le autorità internazionali, non solo in questo campo, tra il pubblico e il privato, il privato profit e quello non profit, a partire anche dalla raccolta di risorse perché noi che viviamo di fundraising sappiamo che ormai in virtù di questa situazione di fasce di povertà che sono cresciute nel nostro paese ci sono dei donatori che tradizionalmente donavano per i paesi in via di sviluppo e che oggi invece sono volontariosi di donare per affrontare le situazioni di povertà o di disagio nel nostro paese. Quindi l'obiettivo è quello di fare questo primo tentativo, un progetto pilota che interviene appunto in aree marginali, un tentativo che si avrà successo, se questo è questo accompagnamento che si propone alla donna in gravidanza per poter trasformare questa esperienza in una cosa meravigliosa e funzioni si potrà replicare in altre zone. In un momento così delicato per il sociale a Roma, la Regione Lazio è ancora in prima linea per quanto riguarda le mamme e i bambini. È una scelta strategica quella di investire proprio sul percorso nascita, sulle mamme, sui bambini, ma scegliendo anche dei territori come le zone più periferiche della città, perché in questo caso stiamo parlando del terzo distretto, che è il terzo municipio dove ci sono 230.000 persone, di cui molti giovani, proprio per dimostrare che una donna che si trova nel momento di avere un evento così importante per la sua vita come la nascita di un bambino, sappia che c'è l'ASL, cioè che ci sono i servizi, che ci sono i consultori e che c'è una collaborazione come quella con AMREF che permette di avere una centralità nella cura delle donne in gravidanza e dei bambini nei primi tre mesi di vita. Questo si svilupperà nel corso di tutto questo anno, perché questa è una sperimentazione in questo territorio, ma l'idea poi è di allargarla ovunque.